Ciao a tutti ragazzi! Prima di iniziare con questo video, volevo dirvi che qui a Pisa, dove sto io, è tutto ok. Non ha allagato praticamente niente, a parte qualche cantina e qualche sottopasso, ma io non ho né cantine e né sottopassi, e quindi Portasega. Allora, in questo video volevo parlare delle tendenze musicali che i classici pecoroni di turno seguono, di come sono cambiate, di come cambiano e di come cambieranno. E quindi iniziamo. Io mi ricordo che negli ultimi anni 90, inizio 2000, passavano in radio roba tipo Zombie dei Cranberries, i Green Day in tutte le loro forme, Blink 182 e simili. Roba che andava dal rock al punk. C'era anche Ramazzotti, ma come non amarla? Si chiama come me. Ma lasciamo stare. Tutto poteva starci, canzoni radiofoniche, ascoltabili, ma poi è successo qualcosa. Da quei tempi in avanti, le persone sono cambiate. Dicono sì a tutte le diversità, che è anche giusto, ma tarpano le ali ed oscurano ogni cosa che manda un messaggio diverso rispetto agli standard, chiaramente. È come dire, io accetto le persone diverse, però non voglio né averne a che fare, né vederle, né incontrarle. Le accetto, sì, ma in un bunker 10 chilometri sotto terra. E non solo nella musica, ma anche nella vita di tutti i giorni. Io li chiamo falsi buonisti. Sono quelli che fanno le frasi fatte e poi fotte sega del mondo. Quelli che mandano la gente a vivere sotto i ponti e poi dicono, povera Italia. Insomma, ci siamo capiti. Quindi, tornando alla musica, farò un esempio. Alvaro Soler lo passano in radio perché fa canzoni d'amore e fa il piacione. Il classico che tutte le ochette vorrebbero e che tutti i ragazzi fantoccio vorrebbero essere. Invece magari persone che fanno musica diversa, magari socialmente impegnata, magari con una mega cresta e dei tatuaggi, non passano in radio perché danno un messaggio sbagliato alle nuove generazioni. Passando di palo in frasca, è un po' quello che è successo anche nei cartoni animati. Basta pensare a quanto sono cambiati i cartoni animati dagli anni 90 ad oggi. Io guardavo Tom e Jerry, dove Tom subiva un sacco. Guardavo Billy il Coyote, che puntualmente cadeva dal precipizio e si schiantava a terra. Guardavo Dragon Ball, dove ogni cazzotto era uno sputo di sangue. Eccetera, eccetera, eccetera. Ora, i cartoni animati sono per bambini fresconi. Il trenino della minchia, Peppa Pig, persino nella nuova serie di Dragon Ball hanno censurato il sangue. Sputano la saliva, come se tutte queste censure servissero a farli crescere bene. Ma vabbè, tornando alla musica. Tutto ciò che non è politicamente corretto, che va contro il sistema, che non dà un buon esempio da seguire, e che traumatizza i bambini, viene affossato e nascosto. E così, il rock, il rock quello duro, il metal, il punk e sottogeneri, che non parlano d'amore, sono stati praticamente censurati dalle radio. E tutto questo ha fatto spazio ad una serie di canzoni piuttosto merdose. Come dimenticare nel 2007-2008 i Tokyo Hotel, che ci hanno fracassato le palle per un anno, e poi sono spariti. E clamorosamente sono l'ultimo barlume di chitarra distorta alla radio. Barlume de merda. Dopo siamo passati a quasi tutta roba elettronica. E preconfezionata. E molti artisti hanno anche iniziato ad ostentare i loro quattrini e ad avere voglia di farci sapere che loro facevano i party. Non quelli... Spenga signora, spenga! No, i party nel senso le feste. Noi facciamo i party, noi ci divertiamo ai party, noi ci sfondiamo di droghe e alcol ai party, e siamo dei bad guy. Ma non troppo, almeno non abbastanza da essere censurati. Un esempio? Don't stop the party! Don't, 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 don't stop the party! Don't, don't, don't stop the party! O se no... And party, and party, and pa, and pa, and pa, and pa, and party, and party! Oh, sorry for party rocking! Yeah, ah, 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 yeah, ah, 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 yeah! O se no... Party rock! And now you're gonna party rock! Eh, eh, eh! Eccetera, eccetera, eccetera. Come se questo fosse un buon esempio da seguire. Comunque, tutto questo praticamente dal 2011 al 2015. Nel 2015 hanno detto Mmm, ci siamo rotti le palle dei party. Adesso dobbiamo iniziare a mettere il cazzo di riflettino figo che pompa nel mezzo ad ogni canzone con testi buonisti. E puntualmente, anche qui, tutti a fare esattamente la stessa cosa. Strofa, ritornello, riflettino. Strofa, ritornello, riflettino. Bridge, riflettino, ritornello, riflettino. E siamo arrivati al 2017. Oltre al marasma di canzoni di merda del 2017, abbiamo iniziato ad osservare un fenomeno che c'è sempre stato, ma in questi due anni ha preso un po' troppo piede. E soprattutto in Italia. Di cosa sto parlando? Sto parlando delle canzoni di circostanza. Quelle canzoni fatte e scritte apposta per essere lanciate in un determinato periodo o contesto per magari con un po' di fortuna diventare tormentoni. Ci sono sempre state le canzoni dell'estate. Sempre. Come ci sono sempre state le canzoni invernali. Basti pensare a Bublé che d'inverno esce dall'etargo e inizia ad occupare le radio fino a circa marzo. Ma torniamo a noi. Le canzoni dell'estate. Prima uno faceva una bella canzone, scritta perché se la sentiva, scritta per ispirazione e per lasciare qualcosa. Se era veramente un bel lavoro e alle persone piaceva, allora faceva successo e diventava la colonna sonora dell'estate. Adesso non è più così. Tutti vogliono fare la colonna sonora estiva, puntano a quello. E quindi, base preconfezionata. Un po' di selfie di qui, un po' di gelati di là, parola estate un po' qui un po' là, i quattro accordi che vanno di moda, base reggaeton, e voilà. E purtroppo sarà sempre peggio. Mentre su scala internazionale, adesso, proprio ora, in questo momento, sta avvenendo un altro cambio, un'altra inversione di tendenza. Ve ne siete accorti? Dove sono finite tutte le canzoni cariche che c'erano prima dell'estate? Sparite. La nuova tendenza sono le ballate pop in stile Adele. Basti sentire il nuovo album di Kesha, o di Miley Cyrus quando uscirà, o di tutta la gente di quello stampo. Per quanto riguarda il lato più cattivo tra un botto di virgolette, avremo una roba sullo stile degli Imagine Dragons, che non è male. Basta non stuprarlo. Di cosa sto parlando? Andate a sentire la nuova dei Foo Fighters, o la nuova dei 30 secondi a Marte. 50 secondi a Marte. Quella dei 30 secondi a Marte è praticamente radioactive, secondo me è un plagio, ma vabbè. Comunque, aspettatevi questo. Per il prossimo anno, purtroppo, credo sarà così. Sarei felice di sbagliarmi, ma i presupposti, perché sia così, ci sono tutti. Comunque, mi sembra di aver parlato anche troppo. Se ho tralasciato roba, mi scuso, ma dovevo tagliar corto, sennò veniva un monologo di un'ora, e mi sarebbero cascate le palle pure a me. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e prego i soliti ignoti di argomentare. Se siete d'accordo con me e questo video vi è piaciuto, lasciate un bel polliciozzo in su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se volete seguirmi in tutto quello che faccio e che farò, passate anche dalla mia pagina Facebook, il link lo sparo giù in descrizione, lasciate un bel mi piace anche lì. Noi ci becchiamo presto, in un nuovo video, e quindi, ciao!